Ben trovati, ben trovate sul canale Esperientarot. Oggi vediamo questo mazzo di tarocchi che ho trovato da poco in libreria, i tarocchi della fortuna, edizione De Vecchi. È un mazzo di tarocchi, devo dire, molto interessante, mi è piaciuto molto. Allora, su reto vediamo il libretto, il mazzo di 78 carte all'interno, testi di Pierluca Zizi, illustrazione di Enrico Albisetti. La scatola ha questa apertura tipica dei tarocchi della De Vecchi, con apertura e chiusura magnetica, e si apre a portafoglio in questo modo. All'interno ci sono le carte e il libretto, che io ho lasciato fuori perché, diciamo, essendo molto grandi, anche il libretto è bello sostanzioso, poi a volte può succedere che rimettendole dentro stanno un po' strette e per tirarle fuori possono creare qualche problema. Allora, all'interno abbiamo il libricino che parla dei significati dei tarocchi e racconta anche un po' questa filosofia dei tarocchi della fortuna. E poi abbiamo i nostri tarocchi. Vediamo già dal retro l'evidente ruota che appunto ci parla di fortuna. Adesso andiamo a vedere i tarocchi e vediamo che sono ispirati ai tarocchi di Marsiglia. La dimensione di questi tarocchi è rettangolare, abbastanza grande, più grande, diciamo, del solito, è un formato tipico delle edizioni dei vecchi. Allora, a me questi tarocchi, devo dire, piacciono molto questi colori caldi e questi disegni particolari, però vedete, ispirati alla simbologia marsigliese. Mentre il riscorro nel matto, nel bagatto, possiamo sicuramente rivedere e ricordarci dei tarocchi di Marsiglia. Ad esempio, qui nella papessa abbiamo una chiave in più, ma, insomma, la sua postura e il suo modo di fare ci ricorda sicuramente i tarocchi marsigliesi. Qualche volta forse non sono rispettati gli sguardi, ma devo dire che comunque l'ispirazione si vede. Molto, molto belli, sono forse più tridimensionali rispetto a Marsiglia classico. I disegni a me piacciono molto, molto ben contornate, le linee e i colori belli, belli cariche, anche se, appunto, non troppo forti, sfavillanti. Guardate, bellissima questa ruota. E torno sull'eremita, che è una carta che a me piace sempre tantissimo, con questa lanterna, in questo caso abbassata, il bastone. Allora, poi abbiamo la nostra forza, bellissima, vedete. Poi abbiamo l'appeso. La cano 13, devo dire, molto bello. Qui comunque nominato la morte, molto particolare con questo velo, quindi non completamente lo scheletto scoperto. Poi abbiamo temperanza, il nostro diablo, poi abbiamo la torre, molto particolare, perché ha questa mano, diciamo, che sembra andare a colpire la torre o a sistemarla, non si sa. Quindi al posto del sole con le saete abbiamo questo particolare. Dunque, un tarocco marsigliese, vediamo, reinterpretato con dei dettagli, molto, molto bello, molto particolare. Anche la luna ci piace molto con questa donna che esce dallo stagno, anziché il solito granchio. E, tra l'altro, insomma, si collega bene con la carta precedente della stella. Poi abbiamo il nostro sole, interpretato in maniera, appunto, molto originale, il giudizio e poi l'ultima carta del mondo. Vediamo rapidamente anche gli arcani minori, in questo caso i denari, bellissimo, questo asso molto ricco. E poi, vedete, il 2 qui ricorda quel fascione sicuramente marsigliesi. Del seme di denari in questo mazzo, forse quello che ricorda di più gli arcani numerali del tarocco di Marsiglia. Ma poi vedremo che gli altri semi sono interpretati in maniera un pochino diversa. Anche qui colori molto belli, lo sfondo è leggermente crema, panna, e qualche carta è un po' più chiara, qualcuna un po' più scura, ma è un effetto che a me non dispiace. E qui le carte di corte che mi ricordano molto, moltissimo le carte da gioco. Mi piacciono molto anche in questa versione. Vediamo le spade, qui quest'asso tipico con la mano che tiene la spada e la corona da cui pende della vegetazione. E poi vediamo che le altre numerali di spade sono interpretate in maniera diversa rispetto ai marsigliesi. Se hanno qualche dettaglio, qualche incrocio differente, ma sono molto molto affascinanti. Interessante che ci sia anche il numero sotto nel cartiglio, così c'è la possibilità eventualmente di avere a colpo d'occhio il numero della carta, senza andare a doverla contare, ad esempio qui nel 10 vedete che ci sono veramente tanti intrecci. Poi le nostre carte di corte bellissime, anche qui mi ricordano molto delle carte da gioco, veramente molto belle. Comunque in qualche modo, per esempio anche questo cavaliere di spade, questa regina di spade, mi ricordano molto anche il tarocco di Marsiglia. Anche il re, devo dire, anche se qui è leggermente spostata la carta, nel senso non è piatta dritta, quindi c'è questo effetto anche un po' tridimensionale rispetto al tarocco di Marsiglia classico. Vediamo i nostri bastoni, qui anche qui il bastone molto grosso, nodoso, che viene sorretto dalla mano. E poi abbiamo qui le altre carte di bastoni, che anche qui, diciamo, seguono una disposizione un po' diversa rispetto ai numerali del tarocco marsigliese. Molto belli questi bastoni, molto elaborati, mi piacciono molto, devo dire. Questo sto finendo di scorrere le numerali, poi veniamo alle carte di corte. Il paggio, qui interpretato in versione femminile, come credo anche nelle carte che abbiamo visto prima, di spade. Poi abbiamo il nostro cavaliere, la nostra regina e il nostro re. Finiamo con la suite di coppe, vedete questo bellissimo asso, qui c'è una mano che non lo sorregge, ma in qualche modo è come se lo porgesse, è molto ricca questa coppa da cui escono fuori. E poi i disegni delle altre numerali. Vedete qui in questo caso il 2 e il 3 di coppe, sono molto simili. Sembra quasi che il 2 preannunci già il 3 di coppe, il cuore che sostiene la terza coppa. Molto interessante questa transizione tra il 2 e il 3 di coppe. Poi vediamo le altre carte numerali, qui diciamo in qualche modo hanno una disposizione, non tutte ma qualcuno simile ai marsigliesi, ma ad ogni modo molto molto gradevoli queste coppe da vedere e da maneggiare. E poi anche qui le carte di corte, il paggio appunto in versione femminile, il nostro cavaliere, la nostra regina. E' interessante che qui riprende dai marsiglia il velo sopra la testa e la spada, anche se in questo caso la coppa qui è aperta e ci sembra che ci sia qualcosa che stia fuoriuscendo. E poi il nostro re di coppe. Dunque vi ricordo che oggi abbiamo visto questo tarocco, chiamato Tarocco della Fortuna, edizione della De Vecchi, molto particolare, ispirato ai tarocchi marsigliesi. Bello anche in retro a forma di ruota, carte belle robuste e di grande dimensione. Vi aspetto al prossimo video, ciao ciao!